come guadagnare costantemente 60 euro a giornata calcistica quindi più o meno ogni tre giorni all'interno di Sorar benvenuti su NFT Italia, benvenuti in un nuovo video questo è un video un po' più avanzato, è un video strategico di Sorar che ci darà la possibilità di poter monetizzare attraverso un calciomercato strutturato con le carte rare nel video di oggi infatti vedremo non solo come poter avere questa rendita fissa di 60 euro ogni giornata con un minimo di 30 euro attenzione ma anche come potenzialmente riuscire ad arrivare nel podio o comunque nei primi posti dove abbiamo l'opportunità di arrivare a premio e quindi abbiamo degli ottimi premi in denaro reale e anche in carte abbastanza rare vedete queste qui sono carte come laio non emessi che come potete capire valgono veramente tanto quindi abbiamo la possibilità anche potenzialmente di spaccare quella determinata giornata avere un risultato incredibile e quindi guadagnare molto di più con la certezza che comunque un minimo di 30 euro ogni giornata l'andiamo a guadagnare quindi seguite con attenzione questo video perché questa è la miglior strategia possibile per poter iniziare a guadagnare su Sorel in maniera certa e continuativa per poter applicare questa strategia in primis dovete registrarvi a Sorar se ancora non l'avete fatto dal link in basso vi potrete registrare e dopo aver acquistato almeno 5 card in edizione limitata avrete in regalo una card in edizione limitata che può anche essere una card da un valore importante considerate se applicate questa strategia in automatico sbloccherete anche il bonus quindi registratevi è molto semplice e poi continuate a seguire questo tutorial vi ricordo anche che sul nostro canale abbiamo già realizzato un tutorial dedicato a Sorar che spiega come funziona tutta la piattaforma la differenza tra le varie card abbiamo realizzato anche i tutorial su come ottenere i bonus di benvenuto quindi vi consiglio di vedere la playlist di Sorar perché lì troverete un po' tutto ora però è arrivato il momento di applicare questa strategia la prima cosa che ci salta all'occhio è che in questo caso dobbiamo obbligatoriamente avere delle carte rare ok? infatti nella competizione rara abbiamo la possibilità di partecipare che con requisiti abbastanza restrittivi 4 card rare e massimo una card common però questa card common può essere la card bonus che noi utilizzeremo all'interno di questa strategia per non spendere soldi e grazie al link in basso oltre alla possibilità di sbloccare la carta in edizione limitata avrete 10 card common in regalo magari uscirà tra queste card common un benzema quindi scegliete una squadra di calcio tra le preferite dove ci sono giocatori importanti e questa ci potrà dare una mano per poter aumentare di punteggio durante la giornata infatti per applicare questa strategia oltre come dicevo alle prime posizioni abbiamo due requisiti dobbiamo o superare il punteggio di 250 e quindi guadagneremo 60,64 centesimi di euro a giornata o superare il punteggio di 205 che è molto che è fattibile ok? come cosa naturalmente per poterlo fare dobbiamo avere delle carte rare con giocatori che giocano ok? perché se non giocano questo punteggio da raggiungere diventa complicato ok? e adesso vedremo appunto come poter procedere con questa strategia e qual è l'investimento per poter arrivare poi a questo punto ricordo comunque cosa molto importante che se scegliete una squadra preferita all'inizio durante la registrazione con carte comune potenzialmente importanti quindi con giocatori importanti questi giocatori ci potranno dare una mano perché uno di questi è gratis e lo possiamo inserire in formazione ok? detto questo adesso dobbiamo andare all'interno del mercato per capire quali sono i giocatori che fanno al caso nostro vi ricordo che noi abbiamo due opportunità possiamo comprare i giocatori con le aste per le nuove card oppure andare nel catalogo manager dove possiamo fare affari ora le aste delle nuove card naturalmente possiamo decidere di vedere quello che è il prezzo massimo e allora qui troviamo delle card che valgono veramente tanto vi faccio l'esempio Holland, Donnarumma, Diogo Costa e così via oppure possiamo vedere quello che è il prezzo minimo naturalmente vi noterete una cosa che il punteggio che vanno a ottenere questi giocatori che costano poco nelle ultime, quindi il punteggio medio delle ultime 5 partite è molto basso perché o non hanno giocato ok? oppure hanno un punteggio basso se io vado invece a vedere quello che è il punteggio massimo vi renderete conto che ok anche in questo caso può capitare che Holland non gioca per alcune giornate e quindi si abbassa il punteggio o vada male ma generalmente vedete i punteggi si alzano di molto ok? considerate anche un'altra cosa importantissima che nella sezione invece quella del catalogo manager possiamo andare a fare delle offerte e quindi qui dobbiamo naturalmente cioè qui dobbiamo fare delle offerte e quindi sperare poi di comprare il giocatore qui possiamo acquistarli direttamente quindi possiamo comunque subito immediatamente avere la squadra per applicare la strategia perché io qui clicco acquisto e in automatico mi ritrovo il player, il giocatore ok? quindi questa è la prima differenza naturalmente qui si possono fare degli affari se possiamo andare a fare delle offerte quindi prenderli a prezzi più bassi anche qui in teoria si possono fare degli affari se vediamo che una carta non hanno fatto delle offerte diciamo che però tra le due questa è quella più veloce o qui dove possiamo per esempio comprare dei giocatori che magari in quel momento si sono infortunati quindi non possono giocare faccio un esempio banale Federico Chiesa si è infortunato, ritorna l'anno prossimo oggi vale molto di meno però sappiamo bene che può essere un giocatore che sicuramente supera ogni giornata il 50 segnatevi questo punto perché è importante questo punteggio minimo per il giocatore e quindi io faccio un affare perché sto investendo sul futuro ok? un po' come nel calcio tradizionale investo sui giovani perché questi po' mi possono portare dei guadagni altro aspetto importante da non sottovalutare quando dobbiamo scegliere i giocatori naturalmente anche oltre il ruolo che vedremo tra poco è l'età più è giovane un giocatore meglio è perché significa che mi giocherà nel corso dei prossimi anni se io vado a prendere un giocatore che ha 34 anni ho un piccolo problema perché se si ritira io non avrò più punteggi da questo punto di vista tornando all'interno qui della sezione dei punteggi come potete vedere io devo avere una media di 250 se voglio guadagnare questi 60 euro questo cosa vuol dire? vuol dire che siccome metto in campo 5 giocatori ognuno di loro dovrebbe realizzare almeno un punteggio di 50 ok? nel caso in cui invece volessi realizzare un punteggio di 205 quindi avere il minimo ognuno di loro dovrebbe realizzare 40 e ci dovrebbe essere qualcuno che abbia un punteggio di 45 quindi 4 che hanno tengono il punteggio di 40 e la restante parte 45 ora io non entro nel dettaglio dei punteggi perché faremo anche un tutorial apposito ma l'abbiamo fatto vedere nel tutorial principale come funzionano i punteggi naturalmente i punteggi vanno ad aumentare a seconda di quello che quel giocatore fa a quella determinata giornata fa un assist gioca bene segna para un rigore fa comunque una partita di un certo tipo e così via quindi più gioca bene più questo punteggio aumenta va bene? ora un altro aspetto che non stiamo considerando però sono i bonus per esempio io ho il bonus XP ho il bonus capitano ho tutti questi bonus ho il bonus del giocatore della stagione vedete che mi dà dei punteggi in più che mi permettono di avere queste percentuali che vanno ad aumentare il punteggio che ottiene quel giocatore quindi in realtà io qua non dovrei per forza aver bisogno di 250 perché facendo un piccolo calcolo potrei aver bisogno anche di 45 46 di punteggio medio per giocatore per poter arrivare comunque a punteggio considerate poi quelle giornate in cui ottenete punteggi importanti potrete spiazzarvi nei primi 630 e quindi ottenere carte che comunque hanno un valore importante ok? anche queste vanno bene perché le possiamo rivendere o utilizzare nella nostra strategia va bene? ora in questa strategia quello che noi andremo a fare naturalmente è la classica cosa ok? io adesso vi sto facendo vedere naturalmente quello che noi dobbiamo fare obbligatoriamente in campo dobbiamo mettere un portiere un giocatore che sia un difensore o un centrocampista attaccante e poi come extra posso andare a inserire uno qualsiasi ok? quindi io vado qui e scelgo quello che preferisco naturalmente io nell'extra potrò mettere per esempio una carta comune così i primi 4 sono i giocatori che io mi organizzo per poter inserirli in squadra che mi permettono di ottenere il punteggio con le carte rare e l'ultima la carta comune ora cose molto importanti se io vado a vedere qui quelli che sono stati i punteggi guardate la carta comune tipo piqué ha fatto 60 capite bene che piqué se dovessi acquistare una carta rara piqué ora non vi faccio vedere nei dettagli ma se metto i prezzi massimi di giocatori comunque quelli anche importanti ok? abbiamo dei prezzi veramente importanti ok? vabbè qua poi troviamo prezzi così messi qui random ma generalmente hanno un costo bello alto quindi sicuramente vabbè che piqué non è giovanissimo immaginiamo un piqué quindi un difensore del barcellona centrale ok? un frank che si ecco ha fatto 43 ma ora andrà anche al barcellona ecco questo potrebbe essere un ottimo acquisto un frank che si raro mi costa veramente tanto ok? quindi devo stare attento anche da questo punto di vista perché devo capire quanto vada ad investire una carta comune di questo tipo mi dà un grosso un grosso aiuto ok? una grossa mano e quindi sicuramente questo è una cosa che devo fare tra l'altro poi io nelle competizioni o le competizioni comuni partecipate sempre perché arrivate a premio se riuscite a arrivare nei primi posti prendete ottime carte comuni che possiamo usare sempre come bonus perché non sono rivendibili ma li possiamo usare come bonus in questa strategia quindi ripeto la quinta carta io la considero comune così vado a risparmiare e cerco di mettere il miglior giocatore possibile per quella determinata giornata quello che vado a fare io naturalmente in questo caso è andare a selezionare il ruolo devo iniziare dal portiere il portiere è molto importante come ruolo ok? devo prendere un portiere che gioca sempre vi faccio un esempio banalissimo Donnarumma potrebbe essere un ottimo investimento in quanto comunque è giovane però dovete anche essere un po' conoscitori di calcio Donnarumma ha il problema nel Paris Saint Germain che gioca un po' lui e un po' l'altro portiere che è Navas questo cosa vuol dire? vuol dire che non gioca sempre quindi io vado a investire 8000 euro su un portiere che comunque se vado a calcolare il ritorno che io posso avere se vado a ottenere questi bonus non è altissimo ok? quindi devo anche ragionare da questo punto di vista che non mi posso spingere troppo oltre quindi io quello che cerco di fare è vedere innanzitutto se c'è un prezzo minimo di portieri che giocano ok? e devo vedere anche il punteggio medio guardate questo qui per esempio costa 4,85 euro si ha 33 anni di età ma potenzialmente già con questo punteggio se ha un punteggio medio di questo tipo mi sono portato a casa un portiere che gioca sempre che ha un punteggio 40 che mi permette di guadagnare 30 euro ok? questo non è male quindi considerate una cosa del genere quindi voi qui potete utilizzare due tipologie di strategie la prima è quella di comprare giocatori a prezzi più più bassi quindi rapporto qualità prezzo guardate questo ha un punteggio medio di 55 nelle ultime 5 ha 37 anni lo uso quest'anno naturalmente non so quanto giocherà però magari come buffon si fa altri 4 anni giocando a titolare e di conseguenza quello che succede è che ho un giocatore che mi fa prendere il bonus massimo va bene? quindi questa è una strategia un po' speculativa nel senso che devo sperare che il giocatore continua a giocare e nello stesso tempo devo sperare naturalmente che ottiene buoni risultati però mi costa poco a parità naturalmente quindi rapporto qualità prezzo può essere un buon investimento l'altra cosa invece che io posso fare è prendere un buon portiere andando a spendere un po' di più quindi io vado avanti qui all'interno di queste schermate vediamo magari un portiere che costa leggermente di più ecco guardate questo qui 54 però ha 38 anni io mi spingo un po' oltre cerco di trovare i portieri non troppo grandi come età andiamo qui senza che tornano vedete questo qui costa 60 euro però a 19 anni potrebbe essere un investimento dobbiamo essere conoscitori da questo punto di vista ecco questo qui per esempio Vural costa 63 euro punteggio meglio 52 ma ha 30 anni un portiere a 30 anni diciamo che altri 5-6 anni di carriera ce l'ha capite bene che questo qui già praticamente se io spendo di media 63 euro a giocatore in 5-6 giornate mi sono ripagato l'investimento se io riesco a stare sempre sopra i 250 ok l'altra strategia invece che io posso applicare è ultima è quella di prendere invece un giocatore che ha un valore importante ok quindi vado oltre vedete vado sui 240 sui 200 euro 250 euro e così via e cosa succede in questo caso succede che io posso mettere in campo il giocatore lo metto comunque a mercato a un prezzo più alto così se lo vendo faccio anche un guadagno quindi contestualmente ho un giocatore che mi gioca se lo vendo a un prezzo più alto l'ho venduto e ho guadagnato ancora di più e poi mi ricompro un portiere sempre con questa strategia però ripeto il portiere è fondamentale che sia uno che gioca sempre ok perché costano tanto ed è difficile poi da sostituire e possiamo usare ripeto la strategia una quella economica rapporto qualità prezzo oppure prendere un portiere dove vado a investire magari con un'età giusta ok che io se lo rivendo a mercato posso anche guadagnarci e naturalmente qui devo fare le offerte però posso andare poi qui anche direttamente nel catalogo del manager e cercare di trovare dei portieri nel catalogo del manager quindi analizzate voi un po' tutte e due le sezioni fin quando non trovate il portiere giusto per voi lo step successivo è quello di scegliere un difensore ok il difensore anche in questo caso vale la stessa identica cosa che abbiamo detto per quanto riguarda il portiere dobbiamo prendere qualcuno che gioca spesso se riusciamo a ottenere un difensore che non sia troppo grande è un ottimo risultato considerate che i difensori generalmente rispetto ai centrocampisti e agli attaccanti giocano anche diciamo un'età un po' più avanzata ok quindi questo è un altro aspetto da non sottovalutare anche qui posso scegliere di vedere i prezzi più bassi e quindi come potete vedere guardate qua abbiamo questo qui dobbiamo naturalmente fare l'offerta quindi qui ad asta però magari ce lo assicuriamo a pochi euro e questo ha 31 anni quindi comunque altri 3, 4, 5 anni di carriera se li può fare bene ce l'abbiamo fatta abbiamo preso un buon difensore qui vado a vedere i difensori vede i prezzi massimi vabbè sono improponibili però se io vado a vedere miglior rapporto qualità prezzo ecco che qui mi ritrovo comunque degli ottimi difensori con un'età giusta guardate questo 78 e quindi ripeto devo essere conoscitore di calcio però spendere per esempio 500 euro per un difensore di 24 anni mi può anche garantire che per i prossimi 10 anni io sono coperto da questo punto di vista quindi guardo l'investimento nel lungo periodo se no io posso andare anche su un difensore che abbia un costo leggermente diverso magari non vado sui 34 o 35 ma cerco comunque un'età è un po' più bassa ecco per esempio questo di 29 184 euro già va bene 32 siamo un po' oltre però potremmo anche farcelo andare bene 175 28 io questi li posso acquistare direttamente attenzione quindi posso anche non fare l'offerta ecco non lasciatevi però subito abbagliare da questi numeri perché dovete sempre fare un'analisi e soprattutto cercate di analizzare bene il mercato fin quando non trovate una vera occasione quindi anche se passa qualche giorno e quindi qualche giornata la perdete di guadagno non fa nulla perché alla fine se poi trovate quei 5 giocatori quei 4 giocatori che potete mettere in campo che giocano sempre che vi portano il punteggio costante è un aspetto molto importante non vi aspettate naturalmente di arrivare a prendere bonus di questo tipo può accadere attenzione però è normale che se vado a ribasso e cerco la qualità a prezzo probabilmente mi sto portando dei giocatori che fanno il compitino ma che non mi permettono di andare oltre ok perché questo è un altro aspetto importante cioè noi potremmo anche decidere un attimino al volo di vedere quelle che sono state le ultime classifiche per capire con che punteggi si sono posizionati allora lì cerchiamo anche di comprendere quale è il punteggio che noi possiamo andare a ottenere per poter arrivare in queste posizioni guardando le classifiche della scorsa giornata per esempio i primi 630 sono questi qui e il punteggio più basso quindi il numero 630 è realizzato 297,22 quindi capite bene che bisogna andare un po' oltre per entrare in questa classifica però se si va un po' oltre questi sono poi i premi il primo ha realizzato 430 punti infatti se andiamo nella prima pagina ecco che ce lo ritroviamo qui ok 431 andiamo indietro possiamo vedere le varie classifiche 471 409 generalmente si va oltre i 400 ci si avvicina ai 400 per arrivare al primo posto ok quindi questo è un aspetto molto importante da non sottovalutare capite bene quindi che se volessimo anche andare oltre dobbiamo comunque ottenere dei giocatori che possono ottenere risultati molto più importanti perché la media si alza di molto però noi comunque in questo caso la nostra strategia è quella di entrare almeno almeno nel punteggio di 205 ma generalmente dobbiamo stare sempre nel 250 per avere questi 60 euro a giornata andiamo avanti quindi poi dobbiamo scegliere il centrocampista anche in questo caso vale la regola un po' del difensore i centrocampisti giocano come età leggermente meno rispetto ai difensori quindi come longevità qui troviamo dei centrocampisti che comunque hanno ottenuto degli ottimi risultati a dei prezzi che comunque sono accessibili quindi vedete 136 euro se andiamo nelle aste invece andiamo a sceglierci il centrocampista all'asta ok quindi nuovi giocatori qui vediamo quelli che sono quelli che terminano a breve magari ecco che ne troviamo alcuni e qui come sempre vi ricordo guardate il punteggio ok guardate il punteggio perché già qui comunque vedete quelli che non giocano sapete benissimo che possono non andare bene a meno che non siete grandi conoscitori in questo caso del calcio giapponese o coreano e allora lì ci può anche stare ok quindi comunque fate un'analisi abbastanza chiaro io direi da questo punto di vista visto che il centrocampista rispetto al difensore può darci qualche bonus in più soprattutto per quanto riguarda assist, gol eccetera sceglietelo con attenzione infine abbiamo l'attaccante generalmente gli attaccanti costano molto ok però l'attaccante capite bene che vediamo quello che è il prezzo massimo vedete ci ritroviamo Holland, Virz eccetera e qui abbiamo dei punteggi importanti ok perché possono fare gol e quant'altro la cosa la cosa importante in questo caso è trovare uno che segni molto ok quindi vedere quelle che sono anche le classifiche dei cannonieri ok andiamo anche qui a selezionare l'attaccante e che comunque non sia troppo avanti troppo in lago l'età comunque il concetto è uguale un po' per tutti attenzione che devono giocare non devono essere troppo in lago l'età a meno che non vogliamo comunque fare una squadra che in questo momento ha gente anzianotta ma spegniamo poco ci portiamo a casa i bonus e questi bonus poi ci servono per reinvestire ecco quella può essere un'ottima strategia ok però Zavi che molti di voi conoscono è un ottimo attaccante però ha 32 anni 606 euro per un 32enne non lo so se li vado a spendere anche perché magari gioca fino al 37 ma sapete benissimo che soprattutto gli attaccanti quando iniziano ad avere comunque più di 30 anni possono avere un calo ce l'hanno ok a un certo punto e quindi diminuiscono anche i gol quindi sugli attaccanti l'età è estremamente importante mentre sui portieri difensori possiamo comunque trovare degli ottimi affari perché durano di più i centrocampisti anche ok non tutti ma alcuni sì ma per gli attaccanti è fondamentale l'età l'età non andiamo troppo oltre perché rischiamo di fare un investimento anche importante magari di 606 euro pensando che questo Zavi comunque continua a segnare è per 3-4 anni a posto e quindi diciamo me ne frega perché anche se non giocherà poi più io comunque il valore della carta me la rivendo e in ogni caso ci ho fatti i miei guadagni cerchiamo di andare comunque per esempio dai 22 anni 23, 24, 25 e così via ok quindi naturalmente da questo punto di vista scegliete anche quello che può essere un budget considerate che i portieri sono molto ricercati e quindi spendere qualcosina in più nel portiere può andare bene anche se lo vogliamo poi rivendere scegliere un difensore che comunque si porta il risultato a casa anche vecchiotto va bene un centrocampista guardate il centrocampista ha già 27-28 anni può andare bene è un attaccante giovane questo è quello che mi sento di consigliarvi fate in modo naturalmente di avere giocatori che possono avere una media che sia superiore a quello che vi ho detto io in primis ripeto per un discorso di andare sempre a premio in secondo perché magari ci fanno anche andare oltre e quindi possiamo fare un bel gain parlando di pura statistica se io vado ad investire 600 euro ok in totale nella mia squadra e ottengo 60 euro giornata io sto tenendo ogni giornata il 10% in 10 giornate ho recuperato ok se vado a spendere 1200 ho bisogno di 20 giornate se vado a spendere 2004 vado a raddoppiare e così via ok quindi ci sta naturalmente da questo punto di vista fare comunque anche i calcoli soprattutto per cercare di comprendere in quanto tempo voi vorrete recuperare il vostro investimento considerando sempre che comunque la cosa interessante è che avete dei giocatori che hanno un valore cioè io mi compro Anthony ok ma questo Anthony ha un valore quindi io poi lo posso rivendere non è che sto comprando e finisce lì e quindi genererò tra virgolette solo l'interesse passivo di questo NFT che mi genera questo interesse giocando no io ho anche la possibilità di rivenderlo al mercato e nel caso in cui è un boom pazzesco e quindi questo Anthony magari inizia a segnare tantissimo ancora di più questo valore schizza alle stelle io lo posso rivendere e farò un bel game capite bene che c'è anche questo aspetto sempre da non sottovalutare ok comunque secondo noi questa è la migliore strategia in assoluto per poter iniziare su sonata anche perché avete visto che volendo si possono spendere non tantissimi soldi ok e cercare di arrivare sempre a questo punteggio di 205 250 che ci dà questa rendita sicura anche perché voi potete creare più squadre da le altre cose e quindi poi a mano a mano iscriverli anche ad altri campionati perché magari qui vi portate a casa la pagnotta con una squadra e vi portate questo bonus un'altra squadra la scrivete per esempio ad Allstar Pro o altre competizioni rare e lì naturalmente cercate di partecipare anche per vincere questi premi oppure magari create più di un account Sorar e questi account Sorar uno lo utilizzate in questo modo un altro invece lo utilizzate appunto sempre in questo in questa competizione ma cercherete anche di fare una squadra che può andare oltre queste sono cose che si possono fare ok quindi da questo punto di vista magari avete un amico avete un fratello la moglie il marito e così via ecco fate queste cose perché possono avere molto senso in più vi sbloccate il bonus di benvenuto perché se invitate una persona il bonus di benvenuto lo prendete sia voi sia quella persona l'importante è comprare almeno 5 carte rare considerate che qui ne avete comprate 4 quindi poi vi basta andare a mercato andare per esempio qui ok selezionare le carte limitate e basta togliamo le rare prendiamo il prezzo minimo e quindi l'ultima carta compriamo è Erdal che vale 61 centesimi e abbiamo sbloccato il bonus fateci sapere cosa ne pensate di questa strategia e se pensate di applicarla all'interno di Sorar fateci sapere anche se conoscete altre strategie che volete che portiamo sul canale se avete dubbi o domande siamo a vostra completa disposizione vi ricordo che in descrizione troverete il link referral che vi permetterà di ottenere 10 carte comuni più una carta rara se acquisterete le 5 carte almeno in edizione limitata come vi abbiamo fatto vedere nei video precedenti ciao e a presto